Benvenuti a tutti voi che ci seguite. Oggi il nostro giornale apre a un format che sono interviste, si chiama Daily Flash, sono interviste per promuovere come sempre una corretta informazione in termini di diritti umani. La nostra linea editoriale, il nostro Daily Cases, sono i diritti umani e gli italiani all'estero. Questo programma nasce in partnership con la Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo e la Lega Internazionale dei Diritti Umani. Sarà appunto una serie di interviste dedicate a personaggi autorevoli del mondo della scienza, della tecnica, del mondo professionale e sociale. Volta per volta analizzeremo dei temi di interesse generale. La puntata di oggi è dedicata al terrorismo internazionale. Il titolo è Dopo gli attentati di inizio in Vienna, cosa ci aspetta? E ospite autorevolissimo per noi questa sera è il generale Leonardo Tricarico, che continua a dare tanto e già dato al nostro paese. Buonasera generale e benvenuto tra noi. Buonasera, buonasera, grazie a voi dell'invito, grazie. Grazie a lei generale. In questo primo incontro è con noi anche gradito ospite il presidente nazionale della Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo, il dottor Eugenio Ficorilli, che salutiamo e al quale diamo il benvenuto. Ricambio e saluto tutti gli amici in ascolto, oltre naturalmente al relatore principale. Grazie. Grazie. Allora, generale, lei ha avuto moltissimi incarichi importanti. Intanto è stato capo di Stato Maggiore dell'Aurionatica Militare nel corso della sua carriera lavorativa e poi ha avuto anche incarichi importantissimi alla presidenza del Consiglio. Lei è stato consigliere militare del governo D'Alema, poi successivamente del governo Amate, confermato anche nel governo Berlusconi. Inoltre, un gran numero anche di onorificenze che naturalmente sono il testimone di quello che lei ha fatto nel corso della sua carriera militare. Per esempio, ne voglio citare una, Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana, che è un'onorificenza molto molto importante, per cui naturalmente io e anche tutto il pubblico che ci segue ci complimentiamo con lei. Lei, al termine della sua carriera, non è stato fermo, ha continuato a lavorare e ha fondato una fondazione che si occupa di intelligenza e non solo. Cos'è ICSA e quali compiti svolge in tema di contrasto al terrorismo internazionale? ICSA è un sodalizio che nasce per volontà del Presidente Cossiga e Marco Minnetti, che tutti gli ascoltatori conosceranno, e del sottoscritto. L'intendimento era quello di mettere in piedi un organismo che si occupasse di intelligenza e sicurezza. Naturalmente tutti ricorderanno quanto il Presidente Cossiga fosse attento a questi temi, quindi ha voluto dare avvio a questo organismo, a questo think tank, che poi in effetti è partito dal 2009. Quindi dal 2009 ci occupiamo dei temi della sicurezza. Ovviamente il terrorismo è un po' il backbone del sistema, perché è quel macroscopico fenomeno che ha creato per tanti anni l'allarme sociale, adesso scalzato dal Covid, ma come abbiamo visto è ancora purtroppo molto vivo, anche se dormiente. Ecco, allora entriamo nel vivo, diciamo, della puntata di oggi. Il numero degli attentati in Europa è cresciuto. Abbiamo visto a breve distanza Parigi e poi Nizza, ma addirittura Vienna, no? Nessuno si aspettava, perché gli attentati a Parigi e Nizza possono trovare una spiegazione nei difficili rapporti geopolitici che ci sono tra la Francia e il mondo arabo. Però Vienna, ecco, l'unica cosa che viene in mente è che Vienna è una sede importante europea, quindi la sede dell'OPEC, che è l'Organizzazione dei Paesi Produttori di Petrolio, dell'OSCE, Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, e dell'AIEA, l'Agenzia Atomica dell'ONU. Cosa pensa lei, come uomo impegnato da sempre nella difesa del nostro Paese, esperto di delicati meccanismi di intelligence, rispetto a questo espandersi di attentati in Europa? In questo momento siamo in una fase di bassa intensità, come dicevo, e purtroppo però va rilevato che le radici sono molto profonde, perché sono il frutto, diciamo, di un proselitismo che dura ormai da molti lustri e che ha visto anche, diciamo, un mutamento dalle strategie del terrorismo. Ecco, una cosa che forse è passata un po' inosservata, perlomeno come dottrina di impiego della forza da parte del terrorismo, è che si è passati da una fase di organizzazione del terrorismo, quello di Arcaida, quello classico dell'ISIS, se vogliamo, a questo invece dello spontaneismo che fa capo a un teorico che si chiama Abu Musab al-Suri, un siriano che poi ha combattuto tante guerre in Afghanistan, in Pakistan, eccetera, e che ha scritto un libro di 1600 pagine sulla jihad globale. E in questo libro viene teorizzato esattamente tutto quello che sta succedendo oggi, cioè questo spontaneismo, questo rifugire dall'organizzazione che naturalmente rischia di essere scoperta, e quindi questa fenomenologia che viene detta dei lupi solitari, ma è una dizione imprecisa, perché fa capo effettivamente a una dottrina tutta diversa. Ecco, io adesso vorrei coinvolgere il presidente Eugenio Piccorilli, perché oltre a essere presidente della Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo, ha una grande esperienza in termini di diritti umani, indubbiamente anche per essere stato nel passato segretario dell'unica commissione di diritti umani della presidenza del Consiglio negli anni Ottanta, insieme a Paolo Ungari, ma ha anche una grande esperienza nelle istituzioni per il suo ruolo lavorativo di capo del cerimoniale a Palazzo Chigi, quindi ha incontrato, lo ha fatto interagire con moltissimi capi di Stato. Ecco, io a questo punto, presidente, riporterei una frase che Ruth Dureghello ha detto all'indomani dell'attentato di Vienna. Ruth Dureghello, ricordiamo, è la presidente della comunità ebraica di Roma. Ecco, lei scrive in un tweet, gli attentati di Nizia e Vienna sono un attacco all'Occidente e all'Europa. C'è bisogno di coraggio nel dire che la minaccia del fondamentalismo islamico è ancora presente e che serve una strategia europea che lo possa contrastare e sconfiggere. Cosa c'è di vero in questo discorso, in questa affermazione della Dureghello, in tema di, vorrei dire, integrazione religiosa o comunque, appunto come diceva il generale prima, i famosi lupi solitari che integrati non sono, però entrano in Europa? Ci sono vari aspetti sull'argomento. Intanto come entrano in Europa e qui apriremo il fronte delle persone, degli arrivi, del monitoraggio, del controllo che dovrebbe essere fatto nel momento in cui entrano. È chiaro che arrivano non schedati, non conosciuti e possono poi fare questa attività liquida, direi, di arrivare sul posto dove hanno comunque qualche referente e fare quello per cui sono stati mandati. Ma io mi pongo un'altra domanda. Che cosa c'è alla base di tutto questo? Perché i diritti umani non vengono interpretati bene e portati avanti anche dalle istituzioni. Mi riferisco, ad esempio, alla posizione del presidente Macron rispetto alle pubblicazioni delle vignette contro Mahometto pubblicate in Francia e che hanno causato poi i vari attentati o sono stati poi utilizzati come scusa per vari attentati. per cui io credo che forse dovremmo cominciare a ripensare anche a come porci nei confronti della libertà religiosa e come anche la stampa e altri dovrebbero anche rendersi conto che pensare e dire sempre qualsiasi cosa non sempre è possibile. Cioè noi dobbiamo ragionare che viviamo in un mondo complesso, un mondo che raccoglie tante persone, dobbiamo essere rispettosi delle idee anche degli altri. Bisognerebbe, sì, ripensare un modo di fare informazione che sia europeo, cioè sia uguale per gli stati europei e metta dei paletti rispetto ai quali oltre i quali non si deve andare per non rischiare di offendere nessuno, insomma, perché ognuno naturalmente ha il suo credo. Generale, in un articolo pubblicato dal nostro giornale, dei Daily Cases, da cui nasce anche il nome di questa nostra puntata, una giornalista che collabora con noi, Vanessa Seffer, si domanda cosa ci aspetta dopo l'inizio in Vienna e quanto anche l'Italia non sia nel mirino dell'ISIS, ricordando che non esistono paesi immuni dalla furia dei radicalisti islamici e che l'Europa è una sorta di condominio dove i vari stati coabitano condividendo giorni e dolori. Qual è la sua opinione in proposito e come l'Europa dovrebbe agire per limitare danni ed effetti distruttivi di quello che conosciamo come ISIS? Guardi, l'Europa è disunita anche in materia di terrorismo, anzi soprattutto in materia di terrorismo, perché l'intelligence è una materia che si condivide con grande fatica e quindi se gli interessi nazionali la fanno sempre da padrone in ogni altro settore nell'edificazione di quest'Europa, maggiormente questo è vero per quanto riguarda il terrorismo. Quindi questo vuol dire che ognuno in Europa ha un suo modello di lotta al terrorismo e il nostro è vincente. Ecco, non è come quello del Covid che ci maniamo tanto vanto di essere i più virtuosi, salvo poi scoprire che invece siamo coloro che stanno un po' messi peggio degli altri. Insomma, ecco, nel terrorismo questo non è vero, il terrorismo è così. Quindi noi abbiamo un modello italiano di lotta al terrorismo che funziona, la Francia ha un modello di lotta al terrorismo che non funziona, funziona molto meno. Quindi anche queste butade di dare la colpa alla frontiera italiana per tutti questi guai che stanno avendo in questo momento è una sciocchezza enorme perché in Francia ci sono, si stima, 8 mila soggetti che possono essere pericolosi ogni giorno per 365 giorni l'anno più tanti altri che sono sull'orlo di diventare pericolosi. E questo è il problema col quale se lo deve dire la Francia cercando di individuare un modello di prevenzione e di neutralizzazione di questo pericolo che oggi ancora non hanno. E quindi lei che cosa consiglierebbe? Ricordo, lei ha fatto bene a citare la Francia perché appunto abbiamo visto come Macron si è scagliato contro l'Italia appena è venuto fuori che il tunisino che ha fatto l'attentato di Nizza era passato attraverso l'Italia dunque l'Italia è la naturale porta verso l'Europa però l'Italia è Europa allora la domanda che io faccio all'intelligenza militare quindi a lei generale è quali sono le azioni che per realizzare un'unità di intenti di tipo militare in difesa dei confini naturali dell'Europa che sono fatti di Italia delle coste italiane Allora sono due problemi ben separati il fenomeno migratoria soltanto recentemente ha dato mostra di veicolare verso il nostro paese verso l'Europa dei soggetti pericolosi per finalità di terrorismo questo è un punto un altro punto è la lotta al terrorismo quindi siamo su due piani completamente separati allora partiamo dal secondo io pochi giorni fa ho sentito il nostro ministro degli esteri parlare di un Patriot Act europeo Allora Patriot Act è un dispositivo di legge che gli americani hanno instaurato immediatamente dopo l'attentato alle dottore gemelle è una cosa terribile cioè con quella legge si legittima la tortura per esempio vogliamo fare questo in Europa adesso stiamo parlando proprio di diritti umani io non so se il nostro ministro degli esteri abbia detto quella parola o abbia approfondito che cos'è un Patriot Act però è anche vero che ci vuole un nuovo quadro giuridico per difendersi dal terrorismo e su questo nessuno sta lavorando perché la Francia la Francia quando ha avuto quei famosi attentati più diciamo sanguinosi Bataclana eccetera ecco ha in maniera abbastanza scomposta ha provato a individuare un paio di provvedimenti di legge che ha dovuto immediatamente riaccantonare perché avrebbero tolto addirittura la nazionalità pure ai francesi se si fosse un macchiaio di terrorismo oppure avrebbero istituito diciamo una condizione emergenziale permanente e uno stato di polizia assolutamente inimmaginabile anche questo quindi sono tutti provvedimenti individuati a caldo che poi però passata la fase emergenziale si ritorna ancora nella sonnolenza salvo poi ecco qualcuno che evoca un patriotec che ripeto è un atto che confligge con la nostra cultura europea e con quella italiana in particolare bene presidente lei ha qualcosa da dire rispetto a questa cosa visto che stiamo toccando il tema dei diritti umani ma stavo pensando in questo momento a Guantanamo dove ci sono stati portati tutti ancora detenuti perché Guantanamo non è ancora chiuso non so quando chiuderà oramai e noi dovremmo evitare proprio questo ed è proprio in questo senso che noi a suo tempo come Lega dell'Italiana dei diritti dell'uomo abbiamo lanciato una proposta che dovremmo intervenire nei paesi di origine per cercare di spengere certi fuochi aiutando le popolazioni a non fuggire quantomeno per fame o altre motivazioni di carattere economico etico politico per rimanere esattamente in tema i diritti umani non sarebbe diciamo un'idea peregrina quella di fare in modo che nella convenzione europea dei diritti dell'uomo venga inserito il diritto di chi fugge da guerra carestie sofferenze e ogni genere di diciamo iniquità a sopravvivere mentre attraversa il mare ecco una una cosa che non esiste ancora nella convenzione europea dei diritti dell'uomo sono elencati tutti i diritti che vanno tutelati man mano che il progresso è andato avanti e altri diritti sono emersi come a bisognero di tutela sono stati inseriti di una convenzione europea che mi pare adesso abbia 17-18 protocolli aggiuntivi proprio per normare il diritto al pensiero religioso alla sessuale insomma tutto quello che sappiamo però quello di sopravvivere mentre si fugge dalla guerra non esiste ecco allora che cosa cambierebbe questo se i 47 paesi del consiglio europeo accettassero e questo potrebbe essere il punto ostico di ostico chi non rispetta questo postulato di questa convenzione scatta immediatamente la tagliola della corte europea che sanziona e lo sappiamo in maniera molto pesante ma questa mi sembrerebbe un'iniziativa sicuramente non banale e soprattutto non semplice da realizzare però lodevole però centrata anziché discutere ogni giorno su fatti singoli azzuffarsi sia a livello nazionale che internazionale salvo poi dimenticare tutto quando passa il periodo emergenziale insomma ecco bene io direi insomma questa nostra chiacchierata comunque è stata molto proficua abbiamo capito tra le parole del generale anche del presidente Ficorilli una serie di cose che magari approfondiremo anche in incontri più avanti io per questa sera per questa volta vi ringrazio ringrazio il generale Tricarico della sua presenza ringrazio il presidente Ficorilli per il suo aiuto per essere sempre promotore e difensore dei diritti umani e vorrei un attimo far entrare in scena la nostra regia che è un giovanissimo ragazzo che si sta rendendo molto utile per il giornale e anche per questi temi da noi trattati che è Lorenzo Majorana Lorenzo ti vogliamo salutare ciao Lorenzo grazie a voi per ora vi ringrazio tantissimo e auguro a tutti una buona buon proseguimento di giornata e alla prossima grazie grazie arrivederci grazie a tutti